Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carla ed oggi voglio parlarvi di un browser particolarmente attento a due cose, la privacy degli utenti e l'uguaglianza sul web. Prima di parlare di Qwant ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella perché altrimenti non potrete mai sapere in tempo reale quando un nuovo video esce fuori dal castello. Qwant è un browser web molto particolare, vi basterà scaricarlo per rendervi conto che ha un motore di ricerca integrato che potrete cambiare ma andreste a perdere il senso di Qwant, un motore di ricerca dicevamo molto particolare. Infatti vi basterà fare una ricerca subito con una keyword a caso, magari tech princess, per rendervi conto di come sono mostrati i risultati. Risultati che vengono mostrati assolutamente in ordine di pertinenza della keyword, quindi nel nostro caso innanzitutto tech princess e poi i vari risultati andando a scalare in ordine proprio di pertinenza. Questo perché? Perché uno degli scopi di Qwant è quello di evitare le disuguaglianze sul web che sono dovute magari ad accordi commerciali, quindi accordi che potrebbero in qualche modo andare a mettere un po' da parte o oscurare determinati risultati a favore di altri. La seconda parte della battaglia della filosofia di Qwant è quella invece di andare a garantire la privacy degli utenti. Infatti qualsiasi ricerca che farete tramite questa applicazione non verrà profilata mai, questo è molto importante se tenete particolarmente la vostra privacy. Infatti normalmente tutte le ricerche che facciamo sul web sono tracciate, i famosi cookie vengono tracciate perché poi ci vengono riproposte delle pubblicità che sono il più possibile fatte ad hoc per l'utente. Tutti quanti almeno una volta ci saremo ritrovati a pensare oh questo banner mostra esattamente la giacca che stavo cercando l'altro giorno. Assolutamente non è una coincidenza, ormai questo è di dominio pubblico, abbiamo capito tutti quanti che quello che facciamo sul web viene tracciato. Bene Qwant non traccia nulla, non tiene traccia di nulla e non profila nessun dato per scopi commerciali di qualsiasi genere pubblicità o qualsiasi altro scopo. Qwant è disponibile in forma assolutamente gratuita, potrete scaricarlo e provare voi stessi questo particolare browser web. Bene io spero che questo video vi sia stato utile, condividetelo, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale. Io i compiti a casa ve li ho dati, ci vediamo al prossimo video, ciao!